Ciao, allora, la prima cosa che bisogna fare è aprire Photoshop con il nostro file della spesa. In questo file deve essere già completo, cioè deve essere impostato nel modo corretto. Quindi quando crei il documento devi andare su File, Nuovo, dopodiché devi assicurarti che ci sia come il posto di personale, bisogna mettere Film e Video. Qui lui ti mette come dimensione, bisogna mettere Pal di 1dv. E poi come proporzioni pixel, il pixel quadrato. Il resto lo lasciamo tutto così com'è, compresi il RGB, che è la risoluzione adatta dei colori per il video. E nient'altro, si fa su OK e poi si inizia a lavorarci sopra. Ad esempio noi abbiamo fatto questa composizione con la spesa, con i vari livelli, messi uno sopra l'altro, in modo da farli sembrare all'interno del sacchetto. Quando abbiamo finito tutto ci assicuriamo di mettere come sfondo un gradiente grigio per dare un tocco di profondità. A questo punto andiamo su After Effects e andiamo su File Importa File Dal menu andiamo a cercare il nostro documento Il documento spesa che abbiamo appena finito di fare Ci fa vedere l'anteprima Ok, va benissimo Dobbiamo importarlo non come metraggio, ma come composizione, livelli ritagliati Questo ci permette di regolare i singoli elementi anche in After Effects ad esempio modificare la dimensione e altre cose Andiamo su Apri Ci esce fuori quest'altra tendina Qua lasciamo Composizione, livelli ritagliati Live Photoshop 3D in realtà a noi non serve visto che gli oggetti sono semplicemente bidimensionali e qua lasciamo OK Bene A questo punto basta fare doppio clic sulla composizione e si apre questo riquadro esattamente quello che avevamo in Photoshop Qua sotto invece abbiamo la nostra linea del tempo e invece sulla sinistra tutti i nostri livelli Basta selezionare un livello ad esempio noi vogliamo che il sacchetto si muova Allora intanto possiamo rendere invisibili tutti gli altri a parte lo sfondo che manteniamo fermo quindi gli mettiamo un bel lucchetto qua qui questa è la colonna del lucchetto nascondiamo tutti gli altri elementi che non servono lasciando solo il sacchetto bene A questo punto se noi clicchiamo su questa freccina si aprono si apre il pannello trasformazione che se clicchiamo ci fa vedere tutte le trasformazioni di default che possiamo fare Allora la prima cosa che si può fare con un sacchetto ad esempio è spostarlo quindi basta andare avanti con la linea temporale ad esempio sui due secondi andiamo su posizione clicchiamo sul cronometro e a questo punto basta che noi se ci spostiamo ancora allo zero con la linea temporale spostiamo il sacchetto tenendo premuto shift in modo tale da averlo dritto andiamo fuori lasciamo e adesso abbiamo già pronta la nostra animazione eccola qua per fare l'effetto ah tenendo premuto shift la linea temporale si sposta esattamente sui nostri cursori cioè sui nostri keyframe per fare l'effetto detto del rinculo cioè il sacchetto arriva da sinistra va a destra e prima di fermarsi in un punto sborda leggermente quello successivo quindi noi vogliamo che il sacchetto vada leggermente a destra e poi torni indietro per fare questo dobbiamo fare tornare indietro un attimo con la linea temporale ma di proprio poco e spostiamo il sacchetto leggermente dopo così forse dovrebbe essere giusta da sinistra a destra e poi torno indietro a questo punto diciamo che la nostra animazione del sacchetto può andar bene così l'unica cosa che dobbiamo fare è per rendere un po' più fluido il lavoro è inserire il motion blur il motion blur è quell'effetto che ad esempio se noi in un film l'esempio che mi sembra accadratante è quello di film di animazione noi facciamo pausa e i soggetti sono sfocati cioè non riusciamo ad avere in un fotogramma l'immagine totalmente nitida questo serve per rendere più fluido il movimento per fare ciò basta che noi attiviamo l'effetto movimento nella composizione in generale questo è questo simbolo io lo clicchiamo in questo modo noi possiamo inserire il motion blur all'interno della nostra animazione se noi adesso clicchiamo su qui motion blur è lo stesso simbolo lo attiviamo per questo livello cioè il sacchetto in questo modo tutto il sacchetto avrà l'effetto del motion blur infatti se noi ci fermiamo in un momento guarda qui il sacchetto non è più nitido è mosso diciamo questo effetto si vedrà molto di più se noi riduciamo i tempi per esempio il modo per ridurre i tempi è prendere i due keyframe e spostarli a un tempo precedente per esempio così se noi infatti adesso guardiamo l'animazione sarà molto più veloce per vedere l'animazione come anteprima basta premere la barra spaziatrice ecco a questo punto noi dobbiamo inserire solo facciamo l'esempio della della banana qui possiamo ridurre questa cosa qua prendiamo le banane eccole qui le mostriamo noi ce le ritroviamo esattamente qui in una posizione che è quella finale cioè noi alla fine dell'animazione dobbiamo avere le banane quindi noi ci spostiamo ad esempio su non so qua due secondi inseriamo andiamo sulle banane apriamo il menu tendina trasformazione perfetto e clicchiamo sul cronometro della posizione perché la nostra animazione è sulla posizione in questo modo viene inserito un keyframe ci spostiamo prima in un momento in cui ad esempio il saccazzo si sta fermando possiamo iniziare a far entrare le banane e le spostiamo spostiamo le mettiamo qui fuori ad esempio in questo modo l'animazione è già fatta vedi entrano così ma detto che la nostra animazione prevede di renderla un po' più realistica cioè le banane non potranno mai cadere in questo modo che non siano appesi un filo dunque gli creiamo un'animazione di diverso tipo cioè quella di rotazione per la rotazione noi andiamo qui troviamo questo clicchiamo sul cronometro qua scegliamo l'onore di giri e i gradi dopo i giri allora andiamo inseriamo la rotazione ecco qui questa animazione è un po' lenta però quindi prendiamo questi due perché sono insieme e li spostiamo un po' prima in questo modo l'animazione sarà più rapida si vedi possiamo vederne l'anteprima ed ecco qui le nostre banane che entrano un po' l'anteprima l'anteprima